Silvia Toffanin, Verissimo, la cifra astronomica che guadagna Dal 2006, alla guida di Verissimo c'è la nostra Silvia Toffanin. La sua dolcezza e deleganza hanno conquistato i telespettatori di Canale 5 Il garbo con cui intervista i suoi ospiti sono uno dei suoi punti di forza Molti la ricordano ancora agli inizi della sua carriera televisiva A passaparola, il quiz preserale di Jerry Scari in onda negli anni 2000 La sua carriera in tv in realtà è iniziata nel 1997, quando partecipò alle finali di Miss Italia Poi appunto, la grande occasione nel 2000, quando venne scelta come letterina di passaparola, ruolo che ha ricoperto per due anni Da quel momento ne ha fatta di strada, e riuscita a conquistare il primo ruolo di conduttrice Era il 2002 quando le affidarono il programma di Canale 5, non solo Moda, che ha condotto per sette anni consecutivi Dal 2006 ha preso il posto di Paola Perego a Verissimo Da allora non ha più mollato il timone del talk del sabato pomeriggio di Canale 5 Un successo sempre crescente, che l'ha portata in queste ultime due stagioni, a raddoppiare l'appuntamento settimanale Non più in onda solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio E per giunta con ottimi ascolti, visto che Verissimo batte sempre la concorrenza delle altre reti La Toffanin è diventata un volto familiare per il pubblico, che ora, si chiede quanto guadagni la conduttrice Una curiosità a cui ha risposto il sito contocorrenteonline.it, secondo cui la Toffanin si porterebbe a casa ogni anno, circa 1.370.000 euro Una cifra stratosferica, ma di cui non si hanno conferme Di certo la conferma non l'avremo dalla diretta interessata, visto che è sempre stata molto riservata Di lei e della sua vita privata si sa ben poco Lei e il compagno Pier Silvio Berlusconi non amano stare al centro del gossip Stanno insieme da 20 anni, e di loro ci sono pochi scatti di coppia Non si sono mai sposati, e hanno due figli, Lorenzo Mattia di 13 anni, e Sofia Valentina di 8 Silvia e Pier Silvio hanno scelto di vivere con i loro figli a Portofino Proprio di recente la coppia ha comprato nella cittadina Ligure una splendida villa con vista sul mare Una mega residenza di 1.300 metri quadrati, con piscina, frutteto, vigneto e uliveto Il tutto per la modica cifra di 20 milioni di euro Insomma, cifre che noi comuni mortali possiamo solo sognare Detto questo, vi ha stupito il compenso della Toffanin? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti